Avevamo pensato a Giuseppe Rossi mentre già stava male, era nel mercato veramente per prenderlo entro il 31 di agosto. Edoardo è molto amico del presidente del Villareal e quando ha chiamato il presidente del Villareal lui stesso è stato un po' sorpreso da una chiamata di un calciatore infortunato. Dice, volete comprare un calciatore infortunato? Edoardo gli ha detto sì, vogliamo comprare Giuseppe Rossi perché se non lo compriamo adesso non lo compriamo più. E da lì è nato questo percorso. Giuseppe è rimasto affascinato da questa situazione che una squadra forte come quella che stava crescendo della Fiorentina si fosse interessata a lui. Perciò quando io sono arrivato a New York diciamo che il 60-70% della strada già era aperta e ho trovato questo ragazzo con questi occhioni così grandi che ha detto una cosa giusta, lui ha detto è innominata, però Giuseppe mette d'accordo veramente tutto il mondo del calcio. Non c'è una persona che non parli bene di Giuseppe, non ce n'è una. È una cosa incredibile. Io ero direttore della Roma e mi viene nel mio ufficio un giorno Daniele De Rossi e mi dice per fare il salto di qualità dobbiamo comprare Giuseppe Rossi. Io ho detto ma noi non ce lo possiamo permettere Giuseppe Rossi. Chiamai comunque il presidente del Parma che ci chiese una cifra folle perché lui aveva un riscatto dal Manchester United e per esercitare quel riscatto doveva poi rivenderla una cifra più forte. Questo ti fa capire che quando dei calciatori tra di loro sanno quanto è forte un altro calciatore è la dimostrazione del valore tecnico di Giuseppe.